Libera Messina, Dio Pizzo, Agenda Rosso e Fondazione Pino Puglisi. Sono quattro le associazioni antimafia che hanno sottoscritto la lettera aperta indirizzata alla città, la mancando la mancata attuazione del regolamento per l'attuazione di politica antimafia, misure di contrasto alla corruzione, al gioco d'azzardo, al racket e sostegno alle imprese che denunciano. Un documento che alla vigilia delle scorse amministrative, Dio Pizzo aveva sottoposto a ciascun candidato a sindaco che lo aveva sposato, salvo poi farlo diventare lettera morta. La proposta di regolamento, infatti, la mente notiziana tra Cuzzi, Don Terenzio Pastore, Giusi Mattagliano e Padre Nino Caminiti, è stata adottata dall'Aggiunta Comunale, previ pareri tecnici favorevoli degli uffici competenti e quindi trasmessa per la deliberazione relativa approvazione al Consiglio Comunale. Proprio a poche settimane dallo svolgimento della ventunesima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si è svolta l'anno scorso a Messina. A distanza di oltre un anno, però, il regolamento, inapprovato, giace in un limbo. Abbiamo atteso i tempi della burocrazia e della politica, adesso però, ad un anno dalla conclusione di questa consigliatura, con il rischio che i tempi tecnici per l'approvazione si possano vanificare, ci sembra corretto informare la cittadinanza dello Stato dell'Arte. La mancata approvazione del regolamento antimafia, spiegano le quattro associazioni iscriventi, rappresenterebbe, infatti, una sconfitta per quella parte di città che vuole costruire il cambiamento e lo vuole fare attraverso un rapporto costruttivo con le istituzioni. Grazie. Grazie.